allora ciao a tutti bentornati al mio canale lo so vi state chiedendo perché questa cosa adesso perché ho cambiato location perché tutto quanto sto in macchina e tra l'altro sono venuto in un posto cercando diciamo il di stare il più isolato possibile non avere troppe perché quando faccio video mi piace stare tranquillo un bacio senza nessuno che mi sta intorno comunque torno oggi nel canale con un po di recensioni perché ultimamente ci ho avuto un po di diciamo di impegni e quindi non ho più potuto molto seguire il canale tra l'altro non sto a casa in questo momento perché perché in realtà nella mia nella mia stanza dove sono tutti i profumi e dove c'è il commo con tutti i flaconi sopra e in cui ora di solito registro i video c'è il mio ragazzo sta facendo i bagni di cong e si sta rilassando con i bagni di cong quindi dico vabbè vado a fare una recensione all'aperto io allora comunque oggi è una giornata che diciamo molto molto cupa scusate devo un attimo levare le clip dei montal che vi sto per recensioni perché sono fastidiosissime è una giornata appunto che un po preannuncia arrivo della stagione invernale e quindi anche del natale vi parlo di un po di profumi i primi da cui comincio sono il chocolate greedy di montal e il low sweet vanilla allora sono due profumi che io da dall'anno scorso e li ho usati parecchio praticamente quasi finiti entrambi allora sono due profumi secondo me molto semplici piuttosto lineari non hanno una grandissima evoluzione addosso però sono due profumi piacevolissimi per chi ama il genere dolce gourmand sono due profumi profumi piacevolissimi io l'ho presi perché mi piacevano appunto erano molto interessato in quel periodo alle profumazioni alle profumazioni dolce alle profumazioni gourmand e quindi mi sono avvicinato del montal perché sapevo che questi due in particolare erano molto famosi o come un ambiente di nicchia sono due gourmand che del brand montal sono particolarmente amati quindi l'ho voluto di sentire allora lo sweet vanilla è dolcissimo è bellissimo come come profumo dolce gourmand ha una vaniglia con albicocca è una albicocca estremamente secondo me in apertura piuttosto aspra non è una di quelle albicocche che va ancora di più ad appesantire la stucchevolezza e la dolcezza della vaniglia è una albicocca secondo me piuttosto anche aspretta in apertura via a un qualcosa secondo me di di aspro di una bigocca non eccessivamente matura ecco è molto molto piacevole ho fatto anche una recensione in inglese su questo profumo in cui dicevo che in apertura era anche un po vitalizzante è vero un po energizzante mette proprio di buon umore è una è un profumo che appena te lo metti proprio ti apre cioè non so non so come descriverlo però è un profumo molto molto gradevole io ne metto poco magari perché è veramente un profumo secondo me gradevolissimo proprio bello proprio un albicocca che appena appena lo spruzzi è molto albicocca sento proprio un profumo all'albicocca una albicocca aspra e subito dopo appunto viene viene quel quel fondo di vaniglia che la addolcisce che la rende coccolosa proprio rasserenante è un profumo davvero per chi ama al genere dei gourmand ottimo poi sotto il predo natalizio sono due profumi che quando me li mettevo al lavoro mi dicevano sempre mamma che profumo di panettone che profumo di panettone che ne so lasciavano questa scia di panettone e di cornetti appena sfornati che per chi comunque ama al genere o per chi si trova nel periodo gourmand dolce sono secondo me ottimi davvero due ottime scelte non poi non ho mai provato i profumi di profumo roma che so che ha delle profumazioni dolci gourmand molto famose molto apprezzate però mi toccherà rimediare l'altro profumo ma io preferisco lo sweet vanilla questo è veramente fantastico costa anche qualcosa di più di questo il cioccolare credit questo 85 euro questo 120 ha ragion veduta secondo me perché ho sweet vanilla veramente tanta roba bellissimo ragazzi bellissimo anche se ho un problema con le vaniglie non so se succede pure a voi dopo un po che ho la vaniglia sulla pelle purtroppo la vaniglia diventa un po bruciacchiata cioè mi diventa una vaniglia un po bruciacchiata non so se succede pure a voi però me proprio dira su un vanigliato carbonizzato non so per quale motivo però a me succede così infatti dopo un po non ma comunque addosso a parte sulla pelle questo profumo è sui sui capi d'abbigamento dura tantissimo sulla pelle le prime ore bellissimo comunque ecco sta passando la macchina e metto un attimo in pausa e comunque vabbè l'altro di cui voglio parlarvi è il cioccolare greedy sempre di montal allora il cioccolare greedy invece l'ho preso perché avevo letto delle buonissime recensioni un profumo al cioccolato fondamentalmente è un cioccolato però piuttosto particolare un po amarognolo è un allora secondo me è proprio un profumo molto natalizio sono due profumi molto natalizi entrambi questo ancora di più credo perché rispetto alla sweet vanilla tra l'altro mi rimane un po latte o mi dà questa sensazione nemmeno di crema proprio di panna cioè proprio un profumo latte o con vaniglia albicocca bellissimo un profumo cremoso vellutato proprio veramente bello molto molto bello è quasi materico come profumo secondo me un profumo gourmand quasi materico molto bello invece il cioccolare greedy è un profumo che in apertura allora innanzitutto questo ha note di caffè alla scorza di arancia amara frutta secca cioccolato vaniglia fava tonka mi pare comunque poi magari andatevelo a vedere l'avevo preso perché su fragantica dicevano appunto che aveva un'ottima performance era un bel profumo per chi ama i gourmand è un'ottima scelta e in effetti questo profumo è proprio un bel cioccolato secondo me proprio un bel cioccolato entrambi mi hanno fatto riscuotere un sacco di complimenti dalla gente io quando me li mettevo e quando dottor ancora li indosso sto me li sento molto bene addosso e metto una roba di buon umore sono due profumi molto rasserenanti confortanti sono profumazioni gourmand quindi non è che devono esprimere chissà che cosa però questo al cioccolato è un profumo che in apertura ha una nota forte secondo me di di caffè scorza di arancia amara ce li sento molto quindi questa marognolo si sente molto in apertura dopodiché questo cioccolato che secondo me è un fondente al 50 per cento via diventa diventa appunto piuttosto dolce dopo che queste note di testa se ne vanno di frutta secca scorza di arancia amara e caffè e diventa appunto un cioccolato piuttosto piuttosto dolce con ovviamente un fondo anche di vaniglia che lo rendono sicuramente un gourmand interessante io non ho sentito molti profumi al cioccolato in realtà perché non è proprio una nota che adoro però questo profumo oltre al cioccolato ha anche altri sfaccettatori è un profumo che rimane dolce però io ci continuo a sentire un retro gusto di caffè è un profumo che rimane dolce è un cioccolato tra il fondente al latte con questa vaniglia però ci sento un retro gusto di caffè per tutto il tempo in cui ce l'ho addosso anche sui vestiti il giorno dopo comunque ci sento un retro gusto così di caffè è molto particolare interessante tantissimi complimenti mi hanno fatto con questo profumo e si è veramente veramente ottimo ho due profumi io allora ho fatto altri video in precedenza in cui comunque dicevo e ho ammesso che non ho una grandissima passione per i montal però sinceramente sono è un brand che quando uno vuole indossare qualcosa tranquillo senza troppe non lo so senza troppe concettualizzazioni o cose strane sono è un brand secondo me ottimo in realtà perché comunque offre tantissime profumazioni tante tipologie e le performance sono comunque nella maggior parte dei casi buone molto buone e queste due appunto sono due profumazioni che hanno un'ottima performance entrambe vabbè io ho finito ci vediamo fra un pochino che registrerò altri video e sempre da qui e alla prossima